Buongiorno, siamo qui con lo scrittore Ugo De Santis per il suo prossimo lavoro rispetto a un almanacco degli ultimi 20 anni. Di che cosa si tratta? Già da tempo sto lavorando all'almanacco, un almanacco che riporta un po' la storia politica sociale degli ultimi 20 anni di Mercato Sanseverino e delle zone limitrofe, specialmente sullo sviluppo urbanistico di quello che doveva essere e di quello che è diventato Mercato Sanseverino, un lavoro di ricerca che inizia non dagli ultimi 20 anni, ma anche negli ultimi 30 anni. Un lavoro sulle varie amministrazioni che si sono succedute, tra quella del sindaco Vincenzo Erra e di quella che è stata del sindaco Giovanni Romano e quindi riporta un po' tutte le fasi progettuali, sociali, anche pezzi di cronaca abbastanza importanti che hanno riguardato tutta la nostra storia di Mercato Sanseverino e delle zone circostanti. Un almanacco. Secondo lei, sullo scenario politico attuale, rispetto anche a una costruzione di vari fasi, rispetto anche al lavoro che lei sta svolgendo sull'almanacco, qual è stato lo sviluppo e come deve essere oggi attualmente lo sviluppo del nostro territorio? Allora, io parto da un'analisi post-terremoto. Diciamo che lo sviluppo urbanistico, indubbiamente bisogna partire dalla fase post-terremoto, le varie progettualità messe in campo dalle amministrazioni, progettualità attuate e altre mai realizzate, perché è fondamentale questa linea continua dal dopo terremoto dell'80 ai giorni nostri. La politica dell'amministrazione Erra, in continuità con quella di Romano e oggi con il sindaco Antonio Somma, che ha un'eredità abbastanza onerosa e pesante. Quindi ci vuole l'impegno di tutti per poter riprendere quello che era una volta il mercato San Severino, che era una città commerciale, una città produttiva e artigianale. A proposito di progetti realizzati, parliamo di una piazza 20 settembre, Lago Rai, l'incontro delle persone, della socializzazione. Che cosa ne pensa di piazza? Dubbiamente piazza 20 settembre è stata una progettazione, un progetto realizzato poco felice, ma non perché il progetto in sé stesso fosse brutto o non realizzabile, semplicemente perché andava realizzato in una piazza molto, molto più grande. Quindi con la gettata di cemento è andata a chiudere delle aree, della visibilità, delle abitazioni della stessa piazza. Però è una piazza che può essere ripresa, magari facendo operare più associazione e la si può far rivivere benissimamente, andandola in gestione e fare un coordinamento delle associazioni, far operare una cittadinanza attiva, perché comunque resta, nonostante insomma, è stata realizzata una piazza ristretta, resta comunque una bella struttura e si possono fare tante attività, anche estive, si possono fare mostre, è una piazza che può vivere. Per quanto riguarda la villa comunale e altre aree verdi, che cosa vede lei? Sicuramente l'amministrazione comunale con l'onere che ha ereditato si trova in una situazione molto difficile che tutti noi conosciamo, siamo ai limiti del dissesto finanziario. Però devo dire la verità, sia gli assessori che il sindaco si sono attivati con una parte della cittadinanza attiva, certo ci sono ancora lavori da fare come la villa comunale, dove le piante impediscono di passare, di camminare sul marciapiede esterno, quello che dà sulla strada, sulla provinciale e piano piano ci vedrà un po', io penso che questo messaggio arriverà anche all'amministrazione e provvederanno al taglio degli alberi che escono al di fuori del recinto, della recintazione della villa comunale. Cosa ne pensa sia degli spazi sociali del nostro territorio che per quanto riguarda la situazione dei migranti? A dire il vero, gli spazi sociali sul nostro territorio, specie nelle frazioni, penso siano stati sempre limitati o addirittura assenti. Io ricordo che gli anni 70 meditavano delle associazioni, esisteva un oratorio, le chiese erano aperte, i giovani erano interessati anche a cultura, politica, poi col succedersi dei tempi siamo arrivati ad oggi che i spazi sociali non ne abbiamo, abbiamo un centro sociale che è una struttura, però spazi sociali che si vivono, che vengono vissuti dalla popolazione in realtà non ne abbiamo, perché lo sviluppo urbanistico di quest'anno non ha mai previsto degli spazi sociali e di attività per i giovani e per gli anziani, tranne qualche piccolo campetto di bocce, qualche cosina limitata, ma a livello culturale proprio quasi niente. Per quanto riguarda la situazione dei migranti? I migranti è una situazione, diciamo, riguarda la politica nazionale, ma dal mio canto io dico che mi ritengo cittadino del mondo, quindi sono per i confini aperti, però sono anche per il fatto che se noi ospitiamo dei migranti in Italia dobbiamo dargli anche un futuro, bisogna dargli una stabilità e bisogna anche dire che la massa degli italiani, una volta erano migliaia, poi centinaia di migliaia, adesso sono milioni di italiani che vivono una situazione non di povertà, ma al di sotto della soglia di povertà. Basta vedere le periferie delle città, le stazioni, le città un po' più grandi e vediamo che gli italiani, proprio gli italiani nati, cresciuti e vissuti da generazioni sul nostro territorio, sono al di sotto della soglia di povertà. E cosa ne pensa rispetto all'educazione e alla legalità? Secondo lei quali prospettive, quali progettualità possono essere inserite per la prevenzione e la proporzione della legalità? Secondo me nelle scuole bisogna riprendere un discorso di base, di educazione civica, l'educazione civica a portare dei progetti concreti sulla legalità, perché il solo libro, la sola lettura ormai non è più sufficiente, quindi bisogna portare i ragazzi, come fanno in alcune scuole del nord a visitare i luoghi di detenzione, luoghi che riguardano la legalità, anche la caserma dei carabinieri per vedere come operano, per fargli vedere qualcosa di costruttivo, di veramente insomma realistico. Si possono fare tanti progetti, penso che la scuola Sant'Omaso sia un'istituzione, questi progetti che ne faranno, ricordo quando io andavo a scuola, insomma negli anni 70, sono stato proprio qui alla scuola Sant'Omaso d'Aquino e questi progetti non esistevano proprio, quindi è un arricchimento per i ragazzi di Mercato San Severino. Rispetto al parco archeologico di Mercato San Severino, quali prospettive possono essere realizzate e secondo lei è inserito in un circuito turistico e quale rigatuta socio-economica può dare al nostro territorio? Il parco Castello, ecco, dobbiamo di nuovo ritornare agli anni dell'amministrazione Erra, dove era in progetto l'acquisto del maniero di Mercato San Severino, che poi fu acquistato invece sotto l'amministrazione del dottor Giovanni Romano. Come può essere sfruttato? Sono stati fatti dei lavori di contenimento, di un po' castello, nelle mura di cinta, non è difficile sfruttare un'area simile, è sufficiente già il fatto di avere dei sentieri e di far fare delle visite turistiche, non è molto difficile, poi col tempo si possono sviluppare anche delle attività sul territorio, gadget ed altre cose. ovviamente negli anni sono arrivati tanti fondi, forse sono stati spesi in modo un poco troppo leggero, mentre si poteva fare una propaganda turistica, allacciarsi ai circuiti turistici, semplicemente per la visita al castello, per la visita attraverso i sentieri, magari una passeggiata a cavallo, che qua abbiamo delle associazioni che si occupano di queste cose qua, che hanno i cavalli per portare le persone, anche i ragazzi, i bambini, i scolari, fargli fare un percorso sul quadrupede. I progetti sono tanti, sono anche a costo zero, ci vuole la volontà, ci vuole la volontà, sono stati spesi soldi in propaganda, però propaganda sterile, perché non si è allacciata a nessun circuito turistico. Molti soldi al parco castello, ma nessuna utilità al momento. Io spero che, diciamo, sia attivato anche un'assessorata al turismo a Mercato San Severino, che poi si occupa di queste strutture, di farle visitare, di alla Cialerno, alla Cosire, ad altri luoghi turistici, perché poi non abbiamo solo il parco castello, abbiamo anche delle chiese, abbiamo altre strutture storiche. È un augurio che faccio anche all'amministrazione di attuare un'assessorata al turismo positivo, non solamente figurante, anche un'assessorata al turismo positivo.